Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la marmellata di fichi d'India. Questo frutto è originario del Messico, ma si diffuse rapidamente in tutto il centro e Sud America già a partire dal tempo degli Aztechi. Giunse finalmente in Europa nel 1493 con la spedizione di Cristoforo Colombo. Da allora divenne un elemento caratteristico del paesaggio. In Italia il 90% della coltivazione è concentrata in Sicilia, la restante tra Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. I frutti sono costituiti da una bacca piena di polpa e semi completamente ricoperta da una buccia cuoiosa e spinosa. I fichi d'India sono un ottimo alimento ricco di vitamina C e minerali come il magnesio, il potassio e il calcio. Inoltre la grande presenza di fibre aumenta il senso di sazietà. Nella videoricetta di oggi vi mostreremo come preparare questa marmellata nel migliore dei modi. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo dei vasetti per marmellata a bollire in una pentola con acqua fredda per 30 minuti. Questo processo si chiama sterilizzazione. Prima di sterilizzare i vasetti li abbiamo lavati in lavastoviglie a 90 gradi in modo da eliminare qualsiasi battere. Poi li lasciamo ad asciugare su un canovaccio pulito girandoli tutti con l'apertura verso il basso. Prendiamo 2,5 kg di fichi d'India belli maturi e consigliamo quelli giallo-arancioni e rossi. In una ciotola grande mettiamo dell'acqua e uno scolapasta. Poi aggiungiamo tutti i fichi d'India. Infine li laviamo per bene. Dopo cambiamo l'acqua e li rimettiamo tutti nell'acqua pulita. Ora vi mostriamo come pulirli se avete paura delle spine. Li prendiamo con una forchetta dall'acqua tagliamo le estremità con un coltello e facciamo un taglio di mezzo centimetro di profondità in lunghezza. Poi tiriamo con la punta del coltello un angolo e procediamo srotolando la buccia che si staccherà senza particolari sforzi. Voila! Tagliamo il frutto sbucciato in pezzi grossi e lo mettiamo in una ciotola. Se siete impavidi e conoscete il frutto prendete un fico dall'acqua tagliate le estremità fate sempre il taglio in lunghezza di mezzo centimetro di profondità e lo pelate con le mani. Questo metodo è molto più veloce. Ripetiamo il procedimento con i restanti. Alla fine abbiamo ottenuto un chilo e mezzo di frutta sbucciata. Trasferiamo tutto in una pentola e lasciamo a cuocere per 10 minuti a fiamma bassa. Poi aggiungiamo 380 grammi di zucchero e lo amalgamiamo per bene. Dopo mettiamo il succo di un limone che andiamo a passare in un passino e mescoliamo per bene. Infine cuociamo per un'ora. Durante la cottura togliamo la schiuma che si forma in superficie. Passata un'ora ci sono due possibilità. Si può lasciare la marmellata a cuocere con i semi finché sia densa oppure come noi si può passare in un passino per eliminare tutti i semi. Il prodotto ottenuto lo rimettiamo nella pentola e lo lasciamo a cuocere per altri 40-45 minuti. Per vedere se è pronta si immerge un cucchiaio nella marmellata e con un dito si segna una riga e si gira il cucchiaio in orizzontale. Se non cola e la riga resta pulita è pronta. Infine aggiungiamo il succo di mezzo limone e mescoliamo per bene. Appena aggiunto il limone bisogna mettere la marmellata nei vasetti. Per aiutarci nel trasferimento utilizziamo un imbutto in silicone. Stringiamo molto bene il tappo e li lasciamo raffreddare. Quando sentirete un forte clac saranno andati sotto vuoto. Alla fine otterremo circa 2-3 vasetti. Prendiamo una bella pagnotta di pane fresco e ne ricaviamo una fetta. Prendiamo poi il nostro burro fatto in casa. Se volete vedere il video trovate il link in descrizione. E lo spalmiamo sulla fetta. Adesso ammirate che favolosa consistenza ha la nostra marmellata. La spalmiamo tutta per bene sulla fetta. E quale miglior modo di capire la sua bontà se non addentarla? Guardate che meravigliosa marmellata abbiamo creato! Bene amici ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo questa deliziosa marmellata di piqui d'india. Cosa posso dirvi? Ha un gusto davvero delicato e c'è un'esplosione di profumi. Come potete notare ha un bellissimo colore ambrato e guardate che bella consistenza! E' una marmellata molto versatile può essere utilizzata per le colazioni più golose per qualsiasi tipologia di crostate oppure per un piccolo snack pomeridiano. Insomma è davvero deliziosa assolutamente da provare! Ok amici il nostro video si conclude qui vi piace il nostro canale iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace non costa nulla ma a noi può fare la differenza ci vediamo nel prossimo video! Musica Musica Musica